Dal 23 al 26 agosto torna a Canzano l'Uvino e fa Cantà, la quarta edizione di questo bel evento per la promozione del turismo enogastronomico. Insomma Canzano ne ospita diversi, le ricchezze enogastronomiche del territorio sono sicuramente tantissime. Sì, è fondamentale perché torna nel centro storico, un centro storico che per un anno è stato chiuso dalla Frana, ma questi ragazzi e l'associazione Ad Maiora che ringrazio non si sono arresi alle difficoltà ma hanno dato il massimo per poter fare questa manifestazione nel centro storico. Naturalmente essendo una manifestazione diffusa quindi che si svolge su tutto il centro storico rispetto a tutti i parametri della legge e soprattutto fa sì che il turismo enogastronomico venga unito anche alle bellezze architettoniche del paese e quindi si scopriranno cantine pubbliche e cantine private che di solito non sono aperte e quindi il turista che arriva oltre a gustare le bontà vede molto dell'architettura del nostro paese. È uscita una piccola polemica relativa all'incompatibilità delle sagre e della promozione territoriale attraverso eventi come questi e poi le ristorazioni che nei periodi di sagre sono praticamente scalzate via nella scelta turistica per passare una serata. Diciamo che a Canzano anche chi fa ristorazione fa anche le sagre, ma a Canzano non è così perché nel momento in cui si fa una manifestazione nel centro storico tutti i locali vengono coinvolti perché comunque c'è anche il passaggio e quindi dal nostro punto di vista come Canzano diciamo che questo problema è limitato perché comunque nel centro storico tutti vengono coinvolti. E poi molti dei ristoratori si impegnano anche a far conoscere anche il tacchino alla canzanese ed altri prodotti e quindi uniscono l'attività che loro svolgono ogni giorno a quella della saga che serve proprio per promuovere quello che loro fanno. Quindi nel nostro caso, nel caso di Canzano, diciamo che le sagre sono un risalto al prodotto e quindi ai ristoranti.